Il fatto sta andando avanti, lavori concreti, alcuni già in corso, altri vengono avviati nelle prossime settimane, su altri siamo allo stadio della progettazione, questi richiederanno più tempo come è naturale, però si sta lavorando sulla progettazione, quindi molta concretezza, la combinazione squadra della regione e squadra del governo sta lavorando bene, sta pedalando bene e quindi credo che i risultati siano molto positivi. Esprimo identica considerazione e soddisfazione perché per merito e per metodo, dicevo prima al signor Ministro, noi abbiamo sempre bisogno di qualificare l'attività amministrativa che mettiamo in campo e la qualifichiamo se nell'incontro con il governo nazionale misuriamo la nostra capacità di andare avanti sui progetti e metterli in campo, mi sembra che l'esito sia favorevole, positivo, l'esame è stato superato, ne avremo un altro tra due mesi come è giusto che sia perché noi dobbiamo vivere di profondità e meno di percezioni.